Un tassista mostra quanto guadagna ogni giorno. Dietro a questo profilo Twitter diventato virale c'è Roberto Mantovani. Roberto è un tassista di Bologna che a partire dal 1 maggio ha deciso di pubblicare i resoconti giornalieri delle sue entrate, sia in contanti che con il POSSO. La sua è una critica dichiarata contro i colleghi che non vogliono usare il POSSO. E così, per esempio, leggiamo che il 1 maggio ha incassato 596 euro lordi nel turno dalle 17 alle 5 del mattino, di cui 401 con il POSSO, a fronte di 55 euro di spese carburante. Il 2 maggio va anche meglio con 601 euro di incasso lordo. Giorno dopo giorno Roberto va avanti così e finalmente dà una risposta alla domanda che si fanno in molti. Ma quanto prendono i tassisti? Peccato che non tutti l'abbiano presa benissimo. È bastato poco che si ritrovasse l'auto con le gomme bucate, oltre a vari attacchi sui social. Ma Roberto ha denunciato l'accaduto e sta continuando a pubblicare i suoi resoconti quotidiani.